Noi esistiamo se siamo utili all'Italia e quindi questa discussione va fatta dentro il conflitto di queste settimane di quello che saranno i prossimi mesi sapendo che noi difendiamo questo sforzo di governo Conte è risorsa grandiosa del Movimento 5 Stelle Vi perdonate quelli che sono uccidi? C'è un procedimento in corso Stavolo! 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 Da tutte le regioni arrivano segnalazioni diciamo di una situazione in cui la curva risale basta vedere i numeri dei contagi dell'ultima settimana che sono cresciuti in maniera significativa rispetto alle settimane precedenti Abbiamo ottenuto una vittoria politica con la nomina del generale Figliolo ora bisogna reperire il maggior numero possibile di vaccini anche con un accordo tra Unione Europea e Russia per utilizzare lo spuso Mercoledì avrò un incontro a Roma con i ministri della Repubblica di San Marino che stanno facendo meglio e più in fretta quello che non riusciamo a fare noi Arcuri ha servito il Paese e mi sembra che lo abbia fatto anche in maniera abbastanza importante e giusta poi il Presidente del Consiglio Draghi adesso è assolutamente legittimato e ne ha tutte le carte regole per poterlo costituire qualora non crede che il lavoro che ha svolto debba continuare a svolgere quindi va bene così Buongiorno cari telespettatori allora il Presidente del Consiglio Draghi ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliulo responsabile già responsabile logistico dell'esercito come nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid e prende il posto di Domenico Arcuri che come sapete era da mesi al centro di molte polemiche anche per via degli svariati incarichi tutti molto pesanti che ricopriva oggi diversi giornali scrivono che Draghi ha archiviato definitivamente con questa mossa Lera Conte sicuramente ha ridisegnato diciamo il vertice della squadra che deve adesso pancia a terra organizzare la campagna vaccinale di massa sapete c'è già un target indicato dai 300.000 ai 500.000 immunizzati tra gli italiani nei prossimi mesi c'è stata grande soddisfazione da parte della Lega con Salvini che ha detto missione compiuta da parte di Forza Italia da parte di Renzi e di Italia Viva ma anche da parte dell'unica forza insomma di opposizione che è Fratelli d'Italia nel governo c'è attesa per la pubblicazione diciamo del nuovo DPCM con le misure anti-Covid ci sono però alcune discussioni oggi c'è una nuova riunione per esempio sulla chiusura delle scuole in zona arancione perché qualcuno dice se dobbiamo chiudere le scuole e allora chiudiamo anche per esempio i centri commerciali in quelle stesse zone arancioni tutto questo perché aumentano i contagi c'è grande preoccupazione per le varianti avete sentito le parole del ministro della Salute e Speranza anche i governatori insomma sono angosciati e peraltro Bologna sta per diventare zona rossa ci sono ulteriori restrizioni nella cosiddetta zona arancione scuro in Lombardia c'è il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga che dice la situazione nella mia regione è allarmante questo è il quadro generale partiamo da qui poi c'è tutta la partita economica che è sempre lì sullo sfondo perché è chiaro che adesso il tema vaccinazioni è prioritario ma va di pari passo con la situazione economica bentornata Claudio Fusani la riformista buongiorno do il bentornato a Ferruccio De Bortoli bentornato Ferruccio buongiorno buongiorno a tutti saluto intanto Francesco Borgonovo a cui do il bentornato vice direttore della verità bentornato Francesco buongiorno tra poco con noi anche Valerio De Molli che è il gran capo di Ambrosetti Think Tank che lavora con associazioni con aziende con stati insomma che ha un panorama una visione non soltanto italiana ma internazionale che ci aiuterà molto anche dal punto di vista delle prospettive allora intanto parto da Ferruccio De Bortoli è stata archiviata l'era Conte il segnale di forte discontinuità che molti si attendevano segnali di discontinuità è stato sicuramente netto perché si è concentrata una grande responsabilità su tutta la filiera di emergenza del piano vaccinale e quindi queste nomine che ci sono state dalla protezione civile allo stesso Gabrielli sottosegretario con la delega ai servizi e poi la nomina di figliuolo evidentemente ha dimostrato Draghi in questi primi giorni di padare al sodo sceglie mi sembra di capire che abbia anche scelto senza nemmeno informare le forze politiche e forse nemmeno tutti i ministri del suo governo quindi diciamo che per il momento è una prova positiva dire che si sia stata archiviata completamente l'era Conte mi sembra eccessivo non dovremmo commettere oggi noi come osservatori l'errore di essere troppo indulgenti e persino entusiasti nei confronti del nuovo governo e un po' troppo severi e ingiusti nei confronti di quello che è appena arrivato quindi dobbiamo avere un certo equilibrio nell'analisi anche perché ci troviamo di fronte di una situazione e lo dicevi tu nell'introduzione che sta diventando veramente allarmante io vedo qui in Lombardia c'è una una condizione anche psicologica molto dura nel senso che siamo tutti convinti di essere di fronte ad una nuova ondata forse persino più forte di quelle precedenti e questo mette a dura prova la resistenza delle categorie più colpite anche pone anche un problema sul quale forse sarebbe anche giusto che ci intrattenessimo un po' più a lungo sulla psicologia individuale su quella di massa sulla resistenza e resilienza delle comunità perché qui forse siamo di fronti alla prova più dura molto più dura di quella di un anno fa ecco sì assolutamente questa tua riflessione apre un altro capitolo di cui ci siamo occupati e di cui ancora ci occuperemo proprio su come questo anno di pandemia comincia a influenzare lo ha già fatto per la verità insomma non soltanto i comportamenti di ognuno di noi individuali quelli generali questa per esempio disperata voglia di tornare a una certa forma di normalità con gli assembramenti con le prime belle giornate cioè anche questo va molto indagato non parliamo poi di tutta la partita che riguarda gli studenti i ragazzi con le scuole ancora motivo di discussione aperte chiuse dove e come ma insomma avremo modo di approfondire vado prima della pubblicità intanto subito da Francesco Borgonovo vi faccio vedere anche il titolo il grande titolo della prima pagina della verità di oggi Cacciato Arcuri c'è speranza Draghi fa il primo regalo agli italiani che è un titolo un po' che contrasta con quanto diceva poco fa De Bortoli no Borgonovo cioè un invito alla prudenza alla cautela a evitare tifoserie ma questa non è noi stiamo tifando noi stiamo dicendo due cose in quel titolo uno che grazie al cielo Arcuri è stato tolto di mezzo nel senso che non perché io abbia qualcosa contro Arcuri come persona almeno lo conosco il problema è come ha gestito tutto quello che gli è passato per le mani dalle mascherine con le inchieste che abbiamo visto i personaggi che sono stati coinvolti e che continuano a tirarlo in mezzo anche se lui dice che non li conosceva la questione delle primule che insomma siamo al ridicolo praticamente tutto quello che gli è passato per le mani banche a rotelle possiamo andare avanti ore a parlarne tutto questo ha dimostrato il suo fallimento quindi toglierlo di mezzo era come dire una questione di meritocrazia se vogliamo il problema è che non è che adesso togliendo Arcuri e qui veniamo al nuovo governo si risolvono tutti i problemi e magicamente il virus sparisce certo che no anche perché alcuni personaggi come il ministro Roberto Speranza sul quale potremmo aprire un lungo capitolo riguardo la gestione dei piani pandemici piani segreti le varie bugie che ha raccontato in diretta televisiva nel suo libro prima pubblicato poi ritirato e tutto quello che ormai sappiamo che se ne parla poco Speranza è sempre lì e continua a fare quello che faceva prima l'allarmista in ogni caso come del resto il suo super consulente Ricciardi che nonostante mentre Draghi stava zitto e non parlava Ricciardi rilanciava interviste per dire serve un lockdown di 5 settimane ora capite che non è che se questi rimangono dove sono si cambia la situazione dal giorno alla notte io vedo vedo anch'io che aumentano i contagi e dobbiamo ancora dimostrare che questi siano più letali per ora sembra di no perché i morti non aumentano di più che prima ci sono state delle novità perché almeno una parte almeno in Lombardia e in qualche altra regione d'Italia una parte dei sanitari è stata vaccinata con dei risultati buoni nel senso che siamo attorno al 70% di persone immunizzate forse anche qualcosina di più quindi il modo in cui si arriva a un'eventuale terza ondata ammesso che ci sia questa terza ondata e non sia sempre la stessa ondata di prima che non è mai che non siamo mai riusciti ad abbassare e non ci deve necessariamente fare pensare al disastro totale quindi anche su questo ci vorrebbe un pochettino di tranquillità e di serenità perché la gente penso che sia abbastanza stanca di sentirsi dire che bisogna provati mettiamola così ci torniamo a questi argomenti poi dobbiamo tornare ad alcune altre questioni che si intrecciano alla questione di fondo alla vaccinazione che stanno facendo molto discutere e ci vediamo subito dopo la pubblicità Allora andiamo Claudio Fusani tu sul riformista oggi hai scritto che Arcuri appunto è stato messo alla porta e che arrivano gli alpini a proposito del generale Figliuolo però voglio ecco qui vedete la foto del generale mi pare 60 anni 60 anni precisi 60 anni precisi però voglio farvi vedere la prima pagina del fatto quotidiano perché c'è anche tutta una questione che con Draghi investe forse 59 forse 59 adesso la andiamo a verificare insomma non siamo molto lontani no appunto ecco ecco il titolo molto polemico del fatto quotidiano Stur Truppen un generale per i vaccini Draghi vira a destra offre a Lega Forza Italia Italia viva la testa di Arcuri e dice il fatto quotidiano è un ennesimo smacco per il Movimento 5 Stelle il PD e per il ministro Speranza che invece volevano tenere Arcuri ma è una lettura questa? ma no cioè che lettura è? è una lettura di un giornale che in questo momento e non da ora deve difendere quello che è stato quindi Conte e quindi anche Arcuri eccetera il punto è questo allora noi abbiamo ancora 1.600.000 dosi di vaccino in frigoriferi cioè l'Italia non è Roma Milano Firenze città dove tu arrivi con delle grandi stazioni con delle grandi piazze e ti metti a vaccinare con le dosi perché ripeto un milione e mezzo stanno in frigorifero l'Italia è fatta di paesini paeselli luoghi difficili da raggiungere non a caso le regioni che sono più indietro nella vaccinazione sono proprio quelle che hanno un aspetto geografico un pochino più complesso quindi ora c'è bisogno io sono assolutamente d'accordo con quello che diceva De Bortoli prima non bisogna buttare via tutto Arcuri io ricordo una cosa che un anno fa di questi tempi non avevamo le mascherine poi è vero che c'era stato un ministro che era andato a vendere l'encina le mascherine ma chiudiamo la parentesi perché bisogna essere buoni cioè Arcuri come noi abbiamo un anno fa non avevamo le mascherine Arcuri comunque è riuscito a prendere alcune aziende e come dire spiegare loro che dovevano assolutamente cambiare il modo cioè dovevano fare queste mascherine quindi è stato vabbè comunque noi avevamo un'emergenza diciamo quella l'ha risolta io non voglio dire scusa Borgonovo Borgonovo per cortesia fammi fare finire un discorso quindi io non voglio buttare via tutto Arcuri ha fatto il suo tempo credo che Arcuri dovesse essere sostituito a settembre perché a settembre nel momento in cui avevamo saputo dei vaccini dovevamo creare una rete logistica non a caso generale è il capo della logistica dell'esercito per fare questo però io poi volevo aggiungere quindi la lettura destra e sinistra assolutamente sbagliata pretestuosa e strumentale si commenta da sola è vero che i nomi i nomi di per sé non sono la soluzione del problema però Draghi ha detto i vaccini sono la prima emergenza economica di questo paese emergenza economica non c'è dubbio bene quindi quello che sta succedendo in questi ultimi cioè non è Arcuri il cambio quello che sta succedendo in questi sette giorni forse sfugge a una lettura più superficiale però Draghi ha cambiato completamente tutte le funzioni di alcuni ministeri chiave ha messo alcune persone alcuni tecnici nei posti chiave sta cambiando tutto veramente l'assetto del governo dell'esecutivo possiamo anche dire non c'è più per quanto riguarda la gestione di questa maniera un uomo solo al comando ma adesso c'è una sinergia nell'ordine il fatto che sia stato nominato un prefetto ex capo della polizia come Franco Gabrielli che curcio è stata nata la protezione civile la protezione civile è stata fatta completamente fuori la protezione civile è una risorsa perché ha logistica perché ha mezzi e ha uomini tutto questo era stato quindi grosso errore adesso c'è un team c'è una squadra di tre persone che comunque Gabrielli ha una delega che sovrintende la sicurezza che è importante e quindi vediamo io credo che fosse l'unica cosa da fare che doveva essere fatta prima ha sbagliato Conte a non farla e che però comunque appunto lasciamo perdere quello che è stato io non voglio contribuisco ci si debba concentrare moltissimo sul presente e su quello che succederà nei prossimi giorni nelle prossime settimane oltre al fatto di dire che molti ministeri sono stati ridisegnati nelle competenze e questa è una rivoluzione di cui il cittadino non si rende conto ma vedrete cosa non succederà cioè il recovery plan sarà gestito in un modo molto preciso volevo anche aggiungere il fatto che appunto anche sulla sanità allora manca ancora un tassello a questa rivoluzione il CTS io sono abbastanza sicura che nei prossimi giorni vedremo che anche il comitato tecnico scientifico cambierà qualcosa così sono come sono abbastanza sicura il fatto che il ministro Speranza fa il ministro della salute lui deve dire se c'è un problema non può non dirlo il problema c'è perché i contagi stanno risalendo però Draghi ha detto anche un'altra cosa importantissima c'è un elemento psicologico in questo paese che non va sottovalutato perché le persone non ne possono più quindi sono sicura che ci sarà un bilanciamento tra i tecnici che Draghi vorrà intorno a sé si fa il nome di alcuni professori come consulenti per la pandemia saranno persone che sapranno consigliarlo anche in questa cosa vediamo anche se ci sarà un portavoce unico come è stato chiesto da più parti così come Gavazzi come consigliere economico si parla di Remuzzi come consigliere della pandemia mi pare di capire che il presidente del consiglio pubblicamente non appare non dice nulla però decide in maniera molto determinata quindi vedremo coinvolgo Valerio De Molli che saluto bentornato grazie dottor Pancani piacere di essere con voi grazie grazie a lei allora intanto io chiedo una cosa a De Molli che è molto importante perché c'è tutta un'altra discussione che riguarda le armi in campo per sconfiggere la pandemia ovviamente vi riferisco ai vaccini cioè cresce da più parti e in Europa la richiesta di alcuni stati abbiamo citato in questi giorni l'Ungheria la Repubblica Ceca oggi il cancelliere austriaco Kurz cioè la voglia di fare da soli perché l'Europa probabilmente nella negoziazione nel fare massa critica con i colossi farmaceutici beh insomma non ha raggiunto i risultati preventivati e sperati parliamo ovviamente dell'oggi poi vedremo da aprile in poi cosa succederà stamattina il cancelliere Kurz ha detto sta peraltro andando in Israele sapete come funziona bene la campagna vaccinale in Israele ha detto Kurz in futuro non faremo più affidamento sull'Unione Europea nei prossimi anni vogliamo produrre dosi di vaccino di seconda generazione per le mutazioni del coronavirus e lavoreremo insieme anche ad Israele ecco lo stesso Kurz l'altro giorno aveva detto anche noi stiamo decidendo se utilizzare il vaccino russo Sputnik ecco questo per chiedere a De Molli dal suo osservatorio come si è mossa l'Europa qual è stato il cortocircuito tra l'Europa per esempio e le case farmaceutiche ma vede col senno di poi è tutto più facile si possono fare critiche si può osservare che avremmo dovuto anticipare i tempi che avremmo potuto investire di più essere più coraggiosi però è proprio facile farlo col senno di poi intanto io credo che la somministrazione dei vaccini sia stata uguale in tutta Europa se guardate i numeri in percentuale sulla popolazione tutti i 27 paesi europei sono tra il 2 e il 3% della popolazione coperta tutti però noi siamo al 25esimo posto soltanto è a fattore comune con tutta l'Europa ripeto sì è vero la commissione europea avrebbe potuto anticipare i tempi io ricordo che Trump fece l'accordo con le case farmaceutiche in bianco quando non c'era alcuna certezza sui tempi quando non c'era nessuna evidenza sull'efficacia lui comperò in bianco dando miliardi di investimenti pubblici credendo in un'accelerazione del mondo farmaceutico l'ha scommessa evidentemente l'ha vinta Trump e l'America oggi è in grado con la nuova amministrazione Biden di somministrare le dosi previste lo stesso ha fatto Boris Johnson in Inghilterra quindi hanno scommesso in anticipo rispetto ai tempi mettendo molti soldi l'Europa è stata più prudente è vero col senno di poi possiamo confermare che avrebbe potuto usare di più e pagare di più anticipando i tempi e però è facile dirlo ex post perché se ci fossimo trovati in questa situazione con tante opzioni disponibili e con una impossibilità di fornitura e un ritardo di fornitura è evidente che avremmo tirato conclusioni opposte dico due cose torno da De Bortoli ieri mi pare la Commissione Europea ha firmato un secondo contratto per esempio con Moderna americana per la fornitura di altre 300 milioni di dosi insomma si corre ai ripari quello che voglio chiedere a De Bortoli è questo prima facevo riferimento allo Sputnik che è arrivato a San Marino ad esempio sappiamo che c'è la fila di italiani che vorrebbero vaccinarsi con lo Sputnik le autorità di San Marino hanno già fatto sapere prima ovviamente i residenti la nostra popolazione poi vedremo se come sia Salvini sia Forza Italia dicono e qua bisogna utilizzare anche lo Sputnik che si è dimostrato efficace sicuro anche se non ha ancora ricevuto l'approvazione dell'autorità europea dell'EMA peraltro non credo nemmeno che sia stata chiesta dalla Russia ecco dal tuo punto di vista bisognerebbe mettere in campo tutte le armi disponibili o no in questa fase? Fermo restando che non vorrei parlare di cose che non so perché poi entriamo in un ambito specialistico e bisogna che si esprimano le persone competenti beh è chiaro che noi siamo legati ai contratti dell'Unione Europea e per fortuna siamo legati ai contratti dell'Unione Europea io non oso pensare cosa sarebbe accaduto nel nostro paese se fossimo stati da soli noto che al di là di San Marino che sono pochi per loro fortuna non fanno parte dell'Unione Europea insomma il cancelliere austriaco si sta muovendo in un certo modo Orban addirittura si è aperto ai vaccini cinesi la Repubblica Ceca sta andando in quella direzione credo che sia doveroso ovviamente tenendo conto che le autorità di regolazione sono indipendenti ed è giusto che siano indipendenti perché in questa frangente noi spingiamo ovviamente ci ricordiamo cosa disse Trump al capo della della FDA però insomma è chiaro che è giusto che siano indipendenti non mi sembra che sia stata richiesta l'autorizzazione anche se poi mi sembra di capire che il vaccino russo funzioni e adesso la Russia ha anche una grande tradizione dal punto di vista della lotta alle pandemie insomma e certo questo porrà ma lo butto lì un problema anche di rapporti fra le due aree perché insomma come la mettiamo con le sanzioni come le mettiamo con cosa facciamo passiamo sopra le sanzioni perché adesso c'è di mezzo giustamente la salute degli europei e quindi quando c'è di mezzo la salute degli europei si passa sopra tutta una serie di questioni che si ritenevano irrinunciabili prima nel rapporto fra i due blocchi insomma questa è una derivata della della pandemia dopodiché dobbiamo augurarci che ovviamente ci sia il massimo dell'approvvigionamento ma soprattutto come si sosteneva prima come diceva Claudio Sufusani prima insomma dobbiamo assicurare la distribuzione la somministrazione con efficienza perché tutto si gioca lì perché guardate sta succedendo qualcosa di particolarmente interessante a livello internazionale che intanto ci sono paesi che hanno tracciato meglio i contagi che hanno vaccinato prima sono anche passati sopra le libertà individuali dei singoli cittadini questo dobbiamo dire sono paesi che stanno uscendo prima dalla crisi e quindi avranno un vantaggio competitivo difficilmente recuperabile quindi noi rischiamo non solo di pagare un prezzo elevato ma poi di essere in qualche modo sfavoriti nella ripresa che inizierà quando inizierà chi esce prima dalla crisi ha un vantaggio straordinario chi esce più tardi non solo paga di più ma fatica a recuperare i livelli di reddito precedenti e forse non riesce nemmeno questo è molto importante in prospettiva devo andare in pubblicità non ti voglio dacciare perché Renuzzi ha fatto un'intervizio su Corriere della Sera bellissima in cui diceva vanno vaccinate le persone con una dose intanto perché già quella da copertura modello inglese adesso ne parliamo facciamo così andiamo in pubblicità voglio sentire di nuovo quella della fusione dobbiamo tornare a Borgonovo e da De Molli rientriamo però mettendo un ingrediente in più che è anche di natura diciamo economica di sviluppo perché poi appunto non dobbiamo dimenticare che il paese grazie anche al famoso recovery plan deve viaggiare a grande velocità verso la modernizzazione e lo sviluppo e oggi ci occupiamo dei porti dei porti italiani perché appunto si parla di grandi infrastrutture e ovviamente da lì passa il rilancio strutture grandi infrastrutture che sono materiali e immateriali come ci siamo detti tante volte e i porti in un paese come l'Italia sono strategici ebbene le autorità portuali che cosa ci hanno detto hanno detto noi vogliamo essere competitivi però bisogna intanto sburocratizzare però a rendere più complicate le cose ci si è messa anche l'Unione Europea che ha chiesto all'Italia di tassare i porti come se fossero imprese private adesso ve lo spieghiamo ricominciamo da qui dopo la pubblicità l'Italia è questo grande molo che si distende sul Mediterraneo quindi una situazione di grande favore logisticamente una situazione sicuramente invidiabile 500 milioni di tonnellate di merce 20.000 posti di lavoro senza contare l'indotto 3% di PIL solo per la logistica sono i numeri dei porti commerciali italiani fondamentali per l'approvvigionamento e per l'economia nazionale è il made in Italy che grazie ai porti italiani può partire verso il mondo nonostante le nuove opere infrastrutturali oggi quello che manca sono le cosiddette connessioni dell'ultimo miglio che permettano per esempio ai binari di arrivare direttamente sulle banchine ma il problema tutto italiano non sono solo le infrastrutture semplificazione burocratica ed amministrativa è questo di cui oggi ha bisogno il paese sicuramente di investimenti infrastrutturali ma direi che in un ordine di priorità si dovrebbe partire prima dalla semplificazione amministrativa rendere più agevole più facile fare gli investimenti un esempio concreto della giungla burocratica nell'amministrazione dei porti è quello della loro manutenzione un'operazione semplice ma essenziale che però in Italia richiede anni di carte bollate il problema dei dragaggi è sicuramente quello prevalente si devono mettere in campo tutta una serie di procedure amministrative di caratterizzazioni di controlli di verifiche insomma quando si parla di questo tipo di interventi parlare di parlare di 3-4 anni è un tempo nell'economia è un tempo biblico 10 cm di fondale molto spesso vuol dire non consentire ad una certa tipologia di nave di entrare in quel porto vuol dire perdere posti di lavoro questa è la dimensione del problema se i nostri maggiori competitor sono i porti del nord Africa ora la commissione europea sembra minare ulteriormente la competitività dei porti italiani una storia che va avanti da tempo i cui nodi oggi vengono al pettine i porti commerciali italiani fanno investimenti per conto dello Stato su demagno marittimo quindi sulla proprietà dello Stato con i soldi che ricavano dalle tasse portuali quindi il fatto che si tratti di tasse che vengono usate per fare investimenti sul demagno marittimo quindi sulla proprietà dello Stato già esclude qualsiasi ipotesi di attività di impresa l'Europa dice no lo scorso governo per vari motivi non ha promosso il ricorso all'Unione Europea oggi ci stanno pensando in maniera autonoma ai porti una vicenda che al di là del danno economico potrebbe rendere i nostri porti ancora meno competitivi si tratta di creare un sistema soprattutto che mette in discussione la possibilità di fare investimenti allora riparto da Valerio De Molli perché poi noi parliamo sempre di tantissimi aspetti soprattutto quelli che riguardano l'immediato futuro di questo paese e alla fine di tutte le questioni arriviamo nell'imbuto solito semplificazione sburocratizzazione lo diceva benissimo il Presidente di Assoporti De Molli ma come si fa adesso anche Draghi ovviamente ha le prese con questo la riforma peraltro della pubblica amministrazione è una di quelle che chiede l'Europa intesa come recovery plan ce la faremo questa volta? Dottor Panchiani lei mi fa la domanda delle domande lo so speriamo di farcela cosa le devo rispondere trovo molto corretta l'analisi del Presidente di Assoporti sì le infrastrutture l'ammodernamento e potenziamento infrastrutturale sono una priorità importante del resto se guardiamo gli indicatori dell'Istituto Tagliacarne mettono ben in evidenza la retratezza media infrastrutturale del Paese soprattutto sul digitale ma non solo certo è che la la semplificazione burocratica resta una vera priorità io spero proprio che Draghi con la sua concretezza e il suo pragmatismo riesca ad impostare un lavoro che possa farci fare uno scatto in avanti da questo punto di vista condivido che è una delle priorità del Paese lo chiedo a De Bortoli perché noi possiamo immaginare tante cose insomma buone positive per modernizzare il Paese ma poi se finiamo lì ci saranno molti problemi perché poi tutti lo diciamo da moltissimo tempo la cosa più importante è il cambio culturale sia della pubblica amministrazione sia poi anche dei cittadini e però insomma da lì dobbiamo passare anche per mettere a terra i piani i progetti del recovery no Ferruccio dobbiamo sempre ricordarci che il Next Generation EU che prevede per il nostro Paese sussidi e prestiti per circa 209 miliardi non so se li prenderemo tutti non so se li prenderemo tutti oppure se useremo una parte dei sussidi per ridurre l'indebitamento complessivo ma questo è un altro discorso e penso che sia una delle pratiche sul tavolo del Ministro Franco insomma il Next Generation EU prevede che si impegnino le risorse a disposizione entro il 2023 per opere che devono essere completate entro il 2026 c'è un'anticipazione di circa il 13% cioè sono i soldi che veramente arrivano poi il resto viene dato a stato di avanzamento di questo noi non parliamo mai che vuol dire che se c'è un ritardo i soldi non arrivano punto punto allora l'imbuto come si si scardina come si si aggira insomma certamente semplificando ma ricordiamoci che il decreto semplificazioni è ancora in attesa di tanti decreti attuativi che si sommano i tanti decreti attuativi che ancora aspettano di essere emanati per rendere possibile una parte di quello che è stato il programma del Conte 2 giusto o sbagliato che sia poi mi piacerebbe che le forze politiche che sostengono l'attuale governo si ricordassero che poi c'erano anche loro prima per cui non è tutta colpa di Arcuri no no certo non è tutta colpa di Arcuri adesso diciamocelo veramente qualcuno ha deciso qualcuno ha condiviso qualcuno ha tollerato insomma forse questo è un ragionamento che dovremmo fare insomma è chiaro che bisogna fare delle forzature ecco e delle forzature pongono il problema poi anche dell'intero e complessivo sistema giuridico nostro soprattutto di tutto il diritto amministrativo si pensi soltanto all'abuso di ufficio si pensi soltanto a quella tema della paura della firma insomma è chiaro che bisogna fare delle forzature e queste forzature porranno un problema che si era già in parte posto con il Conte 2 sulla democraticità delle scelte che forse non passano per il Parlamento e questo sarà un tema politico dei prossimi mesi non c'è dubbio non c'è dubbio Borgonovo anche recupera una cosa della discussione precedente favorevole o no allo Sputnik per esempio utilizzare tutti gli strumenti ma vede io posso essere favorevole anche allo shuttle ma non è questo il problema con tutta la simpatia per chi si è mosso prima e ha fatto da solo il punto non è che noi non abbiamo le dosi di vaccino noi le dosi di vaccino le abbiamo perché le case farmaceutiche con cui sono stati fatti accordi li hanno rispettati cioè questa cosa delle multinazionali cattive che non si sono mosse di Big Pharma hanno tagliato la consegna del 50% per favore ci sono stati dei problemi iniziali legati al numero di dosi in ogni flacone su cui noi abbiamo montato una polemica noi la montata il commissario Curi e il precedente governo è stata montata una polemica senza senso le case farmaceutiche hanno avuto un rallentamento iniziale si sono poi adattate come dire e per rispettare le consegne addirittura noi avremo probabilmente riusciremo ad avere forse anche qualche dose in più rispetto a quella prevista questa è una parte del problema che cosa significa che l'Unione Europea ha sbagliato completamente l'approccio scegliendo la via del risparmio perché gli abbiamo pagati meno invece che quella della consegna sicure delle tempistiche certe e questo è stato un primo gravissimo errore a livello europeo che ha penalizzato tutta l'Europa noi in questo quadro di errore europeo siamo riusciti a peggiorare la situazione gestendo male la logistica anzi malissimo e questo cosa vuol dire che non è che non dobbiamo stare lì a dire sempre colpa di Conte colpa di Ercuni però dobbiamo guardare in faccia quello che è stato fatto prima e dobbiamo fare un'analisi seria delle colpe che ha avuto il precedente governo e se possibile evitare di ripeterle io penso che non si riuscirà avanti di questo passo ad evitare gli stessi errori che sono stati fatti in precedenza anche sui ristori e anche sul recovery fund cioè io sono convinto a proposito dei ristori ad esempio che non è che servano ancora i soldi a pioggia e l'elemosina di Stato bisognerebbe invece che lo Stato ressarcisse le persone che ha fatto chiudere in maniera probabilmente illegittima ci sono stati dei ricorsi al Tar su questo fatti ad esempio da Fratelli d'Italia e il Tar ha espresso forti dubbi sulla costituzionalità dei DPCM sugli strumenti che sono stati utilizzati per costringere le attività a chiudere e io dico queste persone non hanno diritto a un risarcimento ad esempio cioè noi siamo ancora lì nella stessa logica di prima quella di stare ad aspettare che arrivi l'elemosina dello Stato oppure ad attendere questo meraviglioso recovery fund che sono poi soldi che dovremmo restituire agli Stati membri oppure che dovremmo pagare con riforme probabilmente di nuovo lacrime e sangue quindi non è che ci sia da essere molto ottimisti a questo riguardo molto ottimisti dici e allora dice Borgonovo allora facciamo così potrebbe essere l'ultimo DPCM potrebbe essere l'ultimo DPCM adesso ti faccio subito dopo Polo Sottocorona riparto da te Claudia ricordando anche che a proposito dei cambiamenti di definizione per esempio penso al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile adesso il decreto prossimo non è più il decreto ristorico ma è il decreto sostegno ecco vabbè se le parole hanno un senso ne parliamo dopo Paolo ti chiedo grandissima sintesi è colpa mia sono in grande ritardo però va tutto bene ancora primavera ancora per poco per poco no allora non verrà l'inverno non verrà il grande freddo sicuramente però il tempo cambia e si vede già qualcosa perché al momento vedete poche nuvole sull'Italia qualcuno in Sardegna ma qui a Oves ecco questa zona nuvolosa che molto lentamente però avanzerà infatti nella giornata di oggi arriva solo qualche nuvola in Sardegna poi ecco sulle isole maggiori forse qualche debolissima pioggia forse pioviggini ma è un po' di grigio e basta se no ancora prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso domani cominciamo a trovare qualche nuvola in più vedete non sono intense non portano grandi piogge se non appunto soltanto su questo asse fra le isole maggiori però giovedì si vede già qualcosa di diverso perché la nuvolosità si estende al nord sub una parte del centro al sud compaiono delle piogge molto deboli però cominciano ad affacciarsi quindi la strada è quella questo non porterà un crollo delle temperature ma torneranno normali il che significa un pochino più basse di come sono adesso grazie sapendo che siamo ancora agli inizi di marzo grazie Paolo Sottocolona qualche minuto e torniamo subito qui riparto da Claudia Fusani a tra poco intanto vi do questa notizia che è importante sempre nel quadro di fare massa perché si vaccini il maggior numero possibile di persone è partita la sperimentazione per appunto la somministrazione del vaccino anti-covid a i civili nelle strutture della difesa per esempio all'ospedale militare di Baggio a Milano è stata allestita la prima struttura di questo tipo per inoculare il vaccino a persone con difficoltà motorie che aspettano a bordo della propria auto il proprio turno l'iniziativa adesso si estenderà anche al trenno a Milano e alla Cecchignola a Roma ecco tanto per capirci si sta lavorando molto su questo e volevi aggiungere qualcosa sulla vaccinazione allora appunto la cosa che cambierà adesso io non voglio partecipare a dire viva Draghi a Basso Conte non mi interessa però sicuramente l'approccio il metodo era sbagliato il metodo adesso come cambierà che non saranno i cittadini che devono chiamare quando mi vaccini che si diventa scemi 21 regioni ognuno fa a modo suo un casino gigantesco no appunto arriva il generale e organizza un sistema logistico sarà lo Stato che va a cercare nei paesini si diceva prima l'Italia è fatta in modo strano quindi lì si ribalta completamente il paradigma è lo Stato che ti cerca ti chiama e ti dice vieni nel tergiorno eccetera poi volevo dire altre due o tre cose a margine di quello che è stato detto sulla riforma della pubblica amministrazione che è uno dei pilastri del recovery io volevo far notare che è vero che c'è Brunetta che è una persona sicuramente competente lui ha già fatto le riforme forse la riforma più importante l'ha fatta lui però intorno a Brunetta è stata creata una situazione per cui c'è la dottoressa Panucci direttore generale Cottarelli con l'incarico sono condizioni per cui la riforma o la fai adesso o non la fai più anche perché è necessaria per quello che riguarda alcune forzature sono d'accordissimo è vero cioè l'abuso d'ufficio alla cerimonia per la corte dei conti l'anno giudiziale della corte dei conti Draghi ha detto basta con la paura della firma allora ora io adesso dico una cosa che risulterà una bestemmia sarò infamata dal fatto quotidiano per i prossimi sette giorni però una riunione nei limiti del possibile con la magistratura per quello che riguarda l'abuso d'ufficio io non ti dico che l'abuso d'ufficio quando c'è per carità di Dio ma insomma di capire che c'è bisogno di cambiare un po' il passo anche su queste cose perché è chiaro che un amministratore normale poi è detto quello che dice io non faccio nulla io sto fermo e non firmo e così si blocca tutto allora ci deve essere credo da parte di tutti i settori dello Stato uno sforzo concentrico e non all'opposto per far sì che le cose funzionino e questo non è l'interesse di Draghi o per pompare Draghi o per sminuire cose è l'interesse nostro ricordo pure che si è aperta tutta una discussione non da ora sul famoso codice degli appalti pubblici ma vabbè lì sono le beghe di partito però ecco però anche lì bisognerebbe andare un po' oltre le beghe di partito e capire visto che noi di appalti ne dobbiamo fare tanti tante opere sono cominciate mai terminate sappiamo che c'è una massa enorme di risorse inutilizzate che non hanno niente a che vedere con i soldi del recovery fund parliamo di circa 80 miliardi fermi anche di più spalmate su più anni sarebbero addirittura mi pare non vorrei dire 190 miliardi spalmati su molti anni che ci sono e che dobbiamo utilizzare allora torno su questi temi da De Molli De Molli va bene il problema infrastrutture no però qualcuno prima lo diceva attenzione perché questa ripresa simmetrica del post covid e creerà molti squilibri citavamo Israele per la capacità di vaccinazione seppur un paese insomma con una popolazione molto ridotta rispetto insomma a quello dei grandi paesi europei citavamo per esempio la Gran Bretagna oltre già 20 milioni di persone vaccinate se non di più l'Australia che si sta riprendendo tutto questo cosa comporterà da un punto di vista macroeconomico mettiamola così Inghilterra la Gran Bretagna si ah scusa ma intanto sono molto d'accordo su quello con quello che diceva la dottoressa Fusani a proposito dell'esigenza di riformare l'abuso d'ufficio come una delle premesse per affrontare il tema della riforma della PIA e mi unisco anche al suo apprezzamento al ministro Brunetta perché certamente figura competente capace e appassionato oltre diciamo al di là del giudizio partitico che mi interessa poco francamente sul piano dell'impatto economico in effetti i risultati le implicazioni saranno molta macchia di leopardo ed in particolare le economie come la nostra che sono fortemente legate ai servizi di base ad esempio al turismo all'ospitalità io ricordo che il 14,9% di tutti gli occupati in Italia sono legati alla filiera del turismo dell'accoglienza dell'ospitalità e il 13,2% del PIL di questo paese è una cifra enormemente più alta della Germania e della Francia per esempio quindi è ovvio che noi continueremo a soffrire per larga parte proprio in relazione a quei ritardi nella somministrazione dei vaccini di cui avete prima già abbondantemente parlato quindi ipotizziamo un calo del PIL 2021 secondo gli algoritmi del nostro modello econometrico che sarà intorno almeno 9,1% che giusto per sottolinearne la gravità sarà il quarto peggiore anno dei 150 anni della storia Ma una caduta così de molli riguardo il 2020 e il 2021 che prevedete per quest'anno? Il 2021 noi ipotizziamo come del resto molte altre istituzioni di ricerca molte altre società di consulenza e gruppi economici ipotizziamo un rimbalzo ma lo ipotizziamo molto più contenuto di quello ad esempio che lo stesso fondo monetario prevede noi crediamo che il rimbalzo sarà più o meno intorno al 3,5% proprio a causa di questo prolungato ritardo nel ritorno alla normalità che dalle nostre analisi non avverrà prima del secondo semestre avanzato certo molto dipende da quanto riusciremo ad accelerare nei vaccini l'avete detto voi prima buone notizie che possono arrivare riguardano il quarto il quinto il sesto vaccino disponibili questo consentirà un'accelerazione ora tutti i paesi europei tutti i member states hanno ordinato un esubero mostruoso di vaccini io spero che questi non abbiano scadenze a breve perché l'ondata sarà tale che potremo garantire copertura per più anni a più cittadini certo che ci giochiamo la partita nei tempi e un'economia come la nostra lo ripeto fortemente ancorata a molti servizi di base se tu non fai ripartire un tessuto sociale urbano e anche di ospitalità poi lo ricordo l'anno scorso sono arrivati 64,5 milioni di turisti stranieri che hanno speso in Italia 44,2 miliardi ecco questo valore non si riproduce presto quest'anno è evidente che avremo già una perdita stratosferica che sarà difficile colmare con una maggiore attività turistica nazionale voglio chiedere a De Bortoli prima di chiudere una cosa un'ultima battuta a lui a Borgonovo perché questo discorso ci porta immediatamente al cosiddetto passaporto vaccinale no? Ursula von der Leyen la Presidente della Commissione Europea ha detto ne parliamo il 17 marzo perché questo è decisivo per permettere di prendere a viaggiare e però questo sta creando dei problemi in chiave italiana il garante della privacy per esempio ha detto senza una legge nazionale inutile parlare di divieti per servizi ristoranti per chi si è vaccinato e chi no e questo è un altro tema cruciale o no Ferruccio? Si fa una legge nel momento in cui matura un orientamento europeo inevitabile perché poi anche se non ci fosse un passaporto vaccinale immagino che le destinazioni che dovessimo scegliere chiederebbero ovviamente la prova di aver fatto un vaccino o no quindi credo che sia giusto una regolamentazione a livello europeo anzi è meglio anticipare perché anche questo sarà un elemento competitivo per esempio abbiamo visto che giustamente la Grecia sta lanciando l'offerta di queste isole covid free noi ne abbiamo una covid free oggi che è la Sardegna o perlomeno speriamo che lo sia e che lo resti insomma ecco quindi è un elemento però bisogna giocarla adesso questa carta perché le pronotazioni si fanno adesso tra l'altro mi sembra di vedere che negli Stati Uniti c'è un grande boom di pronotazioni di viaggi aerei nel momento in cui si potrà tornare a viaggiare proprio perché c'è stata una campagna vaccinale e questo deve essere l'unica nostra vera grande preoccupazione e cercare di vaccinare in fretta e bene certo Borgonovo è importante questo pass vaccinale o no? ma intanto prima del passaporto servirebbe la vaccinazione quindi magari ne parliamo un attimo quando siamo stati vaccinati diciamo che è stato vaccinato una fetta più consistente della popolazione poi a me queste cose non piacciono molto penso che sia una brutta forma di controllo mi rendo anche conto però che per come si sono messe le cose è abbastanza inevitabile a proposito delle isole greche sarebbe anche una cosa carina se gli italiani quest'estate prima possibile comunque andassero in vacanza in Italia evitassero di andare da qualche altra parte come è stato l'anno scorso sarebbe meglio dare una mano a questo settore che in Italia ha già perso un sacco di soldi e meriterebbe sostegno anche non solo da parte del governo ma anche della popolazione appunto di vista morale insomma facciamo un po' squadra con i nostri imprenditori che se lo meritano sì io mi sento di sottolineare questo appello perché già ci fu la scorsa estate e devo dire che una quota rilevante di italiani poi è restata diciamo nei nostri confini però mai come quest'anno forse togliamo di mezzo la balla che sono state le vacanze a far partire la seconda ondata la seconda ondata è partita a settembre con il ritorno non l'ho mai detto anzi ho scritto sempre il contrario e l'uso dei mezzi non lo dicevo in generale in generale non era legato a questo e l'uso dei mezzi pubblici mezzi pubblici che tuttora sono pieni col cavolo che sono al 50% basta vedere il 64 a Roma sono crollati anche io leggevo i controlli rispetto all'anno scorso in generale delle forze della gente deve vivere in qualche maniera sono d'accordo di smettere di fare terrorismo sulle vacanze le vacanze si possono fare vacanze senza fare ammucchiate non c'è due allora grazie a Francesco Borgonovo grazie a Valero De Molli grazie a Ferruccio De Bortoli grazie a Claudio Fusani a voi e buongiorno a Mirta Merlino ciao Mirta buongiorno allora Andrea oggi proviamo un po' a ricostruire le mosse di Draghi tutti gli uomini del presidente mentre i sottosegretari giurano lui prende in mano le leve del comando parla poco ma al momento ha fatto parecchi fatti con noi Peter Gomez Gianmarco Centri Debra Seracchiani David Parenzo Elisabetta Trenta Cristia Solina se arriviamo anche a parlare della zona bianca in Sardegna molti collegamenti dall'Italia come sempre ancora Massimo Galli Andrea Purgatori Gennaro Migliore Gennaro San Giuliano Giovanna Ferrara una storia terribile perché poi ci sono i fragili giovani ma fragili vanno vaccinati subito e ancora da Pavia il professor Bruno e poi arriva a trovarci Giorgia Meloni puntatone grazie allora a tutti voi grazie come sempre per averci seguito ci vediamo domani 9.40 sulla 7 adesso c'è la reghetina grazie a tutti